Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato un sessantenne originario della provincia di Napoli e residente sul territorio di Battipaglia. L'uomo è stato bloccato durante un controllo in piazza della Repubblica e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 13,4 grammi di marijuana suddivisa in dosi da porre in vendita e di un'ingente somma di denaro ritenuta il provento dell'attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 9 grammi di marijuana, 3 bilancini di varia grandezza, un rotolo di carta gommata, 11 bustine con chiusura ermetica e 2 a chiusura autoadesiva.